Bentornati sul mio canale, io sono Frico e quest'oggi continueremo Tunic Nello scorso episodio abbiamo trovato un'arma magica che fa ghiaccio Però non ho capito ancora perché non siamo ancora andati a riposare Se è monouso non credo Perché è una barra della magia O se si ricarica nel tempo, diciamo, ogni volta che vai a riposare Ti riempie la barra e la puoi usare, in questo caso, tre volte Abbiamo trovato anche qua, cosa c'è? Ma se scherzano mi sono spaventato moltissimo Cavaliere del giardino? Ma un casino di vita Io credo che non dover essere qua Oh, senti, se non lo usiamo adesso non lo usiamo mai Eccolo qua Non so se si ha fasi Spero di no, sinceramente Ah, ho rotolato malissimo Adesso scopriremo se l'arma si ricarica Infatti si, si ricarica In tutto questo abbiamo anche attacco potenziato Che ci serve Magari non dobbiamo fare una battaglia Epica di due ore e mezza E poi qua No Vabbè Sbaglio sempre Facciamo un'offerta Sicuramente posso usare un altro attacco magico Così Saranno quattro Ho la stamina PR Ok Punti resistenza Perfetto No Rush, 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 rush Ok Non possono salire le scale Vediamo Recuperiamo il nostro Gianfranco Poi io le ha spam Facciamo già più male Aio No, sono affaticato Ok Gli ho montato a metà vita No Mi ha fottuto la grande Qua mi sposto e basta Mi conviene Sarà una bella battaglia Devo imparare a schivare Non credo di dover essere già qua però Sali Oh mio dio Scusatemi Non pare male Ce le ho Sfruttiamole Va Attenzione Sì Sì, sei finito Grazie Sennò Ti facciamo calmare un pochino Ti sfreddiamo Cazzo Prendo da manco io Dalle cose che lancio Se giochiamo con calma Ce la facciamo Oppure moriamo Come dei deficienti Dipende Ecco Tipo adesso che ho sprecato tutte le bombe Benissimo Me ne reda una Perché Queste secondo me Mi redano mana Proviamo Sono un cretino Ho sbagliato completamente a tasto Va bene Vediamo un pochino se riusciamo a fargli Dal male fisico Ho già fatto una cagata E sempre Ho già fatto una cagata Ho taş 50% La cagata Norte Innante Grazie Odぐ fermissimo spragatissimo mi ha chiuso nell'angolino potrebbe essere un problema alla fine è semplice se sto attento ok è morto voglio me allontanare non si sa mai ok not bad my boys e qua niente nessun premio vediamo il nostro premio 200 monete gemme come le vogliamo chiamare e adesso possiamo suonare la campana campanile ovest dong son due in realtà sono mi sa che son due fatte o son tre adesso vediamo va bene scorsatoia in realtà non so più dove andare vediamo un pochino vicino a 28 che non ho controlla la polvere momento di invulnerabilità ah io dove sonora vabbè vediamo un pochino in realtà possiamo andare anche di qua che era buio non potevo andare cazzo sta roba mi dai una cosa in più alla faccia quindi qua posso comprare diciamo comprati una pozione extra male non fa qua ci siamo già scesi passaggio proibito non abbiamo combattuto contro quello però ok non c'era questo quello scudo prima qua o si blocchiamolo all'angolo e uccidiamolo in realtà potrei andare anche di là se mi ricordassi come si fa ovviamente sono un cretino andiamo sono qua questi li abbiamo tutti eliminati magari mi son perso davvero qualcosa ok ok perfetto siamo qua no avrei potuto ancora tolare basta cazzo di vita cazzo di vita questo dove mi portava è un po' di più c'è qualcosa che non mi torna qua qua non ce l'ho più la mappa giusto torniamo in checkpoint e esploriamo meglio nel prossimo episodio qua ad esempio dove sto andando un bel giro però queste cose non le abbiamo ancora viste sono tipo delle carte scudo ma non ce le abbiamo vabbè prima o poi capiremo a cosa servono appena sbloccheremo la pagina numero 20 questi non si possono ancora aprire fortezza della camera est vediamo se riusciamo a raggiungere qua sì consigli di sopravvivenza tenendo che le tue barre stanco tieni premuto 20 usa i tuoi gettoni usa le tecniche speciali controlla la mappa ma la mappa non ce l'ho di questo posto io oh eccola qui invece si 27 28 mi trovo qua in questo momento pugnale magico che ho trovato boss fatto in realtà questa parte dovrebbe essere fatta tutta completamente guarda come c'è che 5 6 colpi ci vogliono sicuramente devo sbloccare qualcosa che mi permette di fare salti più più grandi ci sono molte molte zone dove non posso arrivare ancora andiamo un pochino tipo qua non ci sono mica andato non saprei neanche come fare ok ci curiamo bravissimi ho sollevato lo scudo tipo qui sicuramente c'è qualche scor- sono caduto come un idiota c'è qualche scorciatoia non sarà ottimale però sto comunque avanzando fastidioso vieni qua solo per suonare la campana e qua c'è questo ma non sappiamo cosa fa ci potenziamo abbiamo potenziamenti perché mi fa il fuoco così no va bene ragazzi noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio sempre qui sul mio canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti